Salerno e la sua provincia investono nel turismo per ripartire dopo i mesi più difficili del covid e per l'estate tornano i collegamenti via mare e su rotaia per avvicinare la costa al resto del paese. Da venerdì 9 luglio e fino al prossimo 26 settembre torna l'alta velocità Freccia Rossa da Milano a Sapri con il contributo della regione nei fine settimana passando per Napoli fermate specifiche per i turisti ad Agropoli, Pisciotta, Pallinuro e Sapri per un totale di 72 viaggi tra andate e ritorno. L'altro fronte è quello del mare con i collegamenti tra Salerno e le isole della Campania ai quali si aggiunge uno con Procida, capitale della cultura. C'è una grande voglia di spensieratezza e di ritornare alla normalità. Noi ci siamo preparati in questo lungo periodo cercando di attrezzare nuovi porti infatti la prossima settimana è prevista l'inaugurazione del nuovo approdo di Vietri sul mare. Nuove rotte sicuramente interessanti saranno appunto Procida in occasione del capitale della cultura che sarà sicuramente una delle prossime tappe su cui punteremo un po' tutto l'armamento campano. Per la guida dell'Agenzia di Navigazione un'occasione importante di ripartenza anche se i numeri degli anni scorsi per adesso restano un miraggio. Sicuramente siamo lontanissimi dai numeri che eravamo abituati nel 2019 però contiamo rapidamente di ritornare a quei livelli già a partire dall'anno prossimo dal 2022. 2021 sarà ancora un anno all'insegna della transizione, siamo in attesa dei turisti stranieri perché diciamo la stagione è caratterizzata ancora per quest'anno da un turismo prettamente di prossimità quindi locale.